Potrebbero essere sentiti in videoconferenza nei rispettivi paesi di residenza alcuni dei testimoni del giallo di Martina Rossi, la 19enne d'Imperia, morta dopo essere precipitata dal sesto piano di un grande hotel alle Baleari il 13 agosto 2011. Prenderà infatti avvio il prossimo 13 febbraio il processo a carico di Luca e Alessandro, i due giovani di Castiglion Fibocchi, accusati di morte in conseguenza ad un altro reato, la tentata violenza sessuale. Per la pubblica accusa infatti la giovane studentessa sarebbe caduta dal balcone nel tentativo di sfuggire ad un tentativo di stupro. Manca dunque poco all'inizio del procedimento, ancora non sono state presentate le liste testi di accusa e difesa, ma sicuramente tra testimoni che saranno chiamati ci sarà Franzisca, la cameriera spagnola, unica testimone oculare certa del suicidio, i poliziotti spagnoli che svolsero le prime indagini ed infine il turista danese che avrebbe sentito scendere uno dei due giovani a retini le scale 2 a 2 dopo l'urlo di Martina mentre stava precipitando. I testimoni non italiani, in quanto non possono essere costretti coattivamente a testimoniare né possono essere acquisite le erogatorie internazionali, potrebbero dunque essere convocati in un ufficio giudiziario del paese di appartenenza per poi essere collegati in video con l'aula in cui si svolge il processo. Solo così l'accusa alle parti civili e la difesa potranno porre loro le domande in contraddittorio come appunto richiede la legge. Il processo di Martina Rossi potrebbe così per la prima volta ad Arezzo diventare a distanza.